Questa collaborazione con il Comune di Vallo nel caso specifico prevede un contributo per l'aggiornamento tecnologico delle risorse strumentali con cui noi oggi effettuiamo un certo tipo di contrasto al fenomeno. Grazie a questo accordo noi avremo la possibilità di aggiornare tecnologicamente le nostre strumentazioni, che è fondamentale anche per le prestazioni operative che poi potremo attenderci sul territorio. Abbiamo detto il sindaco tolleranza zero, questo accordo è un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che c'è e da parte degli amministratori, quello di Vallo in modo particolare, da parte delle forze dell'ordine per combattere una piaga del territorio. Certamente, noi come forze dell'ordine in genere siamo già caratterizzati da una tolleranza zero nell'accertamento dell'infrazione delle sanzioni amministrative. Naturalmente capisco che il fenomeno ci porta ad avere la mano ferma perché è inconcepibile che ancora oggi ci sia una scarsa sensibilità così disfusa sulla salvaguardia del nostro territorio. È casa nostra, non possiamo permettere né tollerare che venga deturpato da gesti che poi hanno un'alternativa. L'esempio del Comune di Vallo è un incentivo anche agli altri comuni ad una maggiore collaborazione? Certamente, sì, io convido molto in questo primo passo perché con gli altri comuni possiamo avere un'apertura comune sulle problematiche che ci affliggiano. Oggi infatti è un giorno importante perché si suggerisce una collaborazione tra l'amministrazione comunale di Vallo e il Corpo Forestale dello Stato che è finalizzata a cercare di limitare e speriamo di annullare quello che è l'annoso problema dell'abbandono dei rifiuti. Proprio in questo periodo, durante l'estate, osserviamo che lungo tutta la Cilentana, lungo tutto il tratto è disseminato di rifiuti che vengono abbandonati. Con questa collaborazione sicuramente, grazie a sofisticati sistemi di videosorveglianza, sicuramente il problema sarà molto attenzionato e quindi sarà, speriamo, a breve risolto. Rientra in un lavoro ben più ampio che come Comune state svolgendo, state portando avanti. Certamente, sì. A breve partiremo con la nuova campagna per la raccolta dei rifiuti, ci sono tante novità e soprattutto c'è una voglia ancora maggiore di salvaguardare le persone che hanno un atteggiamento normale. Io non oserei dire civile, è normale, perché quello è l'atteggiamento che si ha sia verso il deposito che verso il modo di differenziare i rifiuti. Per cui, a breve, ripeto, partiremo con questa nuova campagna differenziata, sperando di raggiungere risultati che tutti ci auguriamo.